Il Teatro Povero di Monticchiello, frazione di Pienza in provincia di Siena, è nato nel 1967 e la 53esima edizione è stata presentata oggi in regione, alla presenza della vicepresidente Monica Barni, del vice sindaco del comune di Pienza Gian Pietro Colombini e dei due registi Manfredi Rutelli e Gian Piero Giglioni. Lo spettacolo si chiama Stato Transitorio e sarà messo in scena da più di 40 attori abitanti di Monticchiello ogni sera dal 20 luglio al 14 agosto. Va in scena quello che a nostro avviso significa davvero fare cultura, cioè fare cultura significa coinvolgere le comunità e far sì che la partecipazione culturale non sia semplicemente un momento eccezionale nella vita delle persone ma sia davvero un'abitudine. Ecco, con Monticchiello ci riusciamo, ci riusciamo sempre. Proprio i due registi sono una delle novità di quest'anno. Rutelli e Giglioni hanno ereditato la regia da Andrea Cresti che ha curato la direzione artistica del Teatro Povero per moltissimi anni e proprio il tema dell'ereditarietà è al centro dello spettacolo di quest'anno. Diciamo che il tema centrale della narrazione è appunto un passaggio transitorio, ossia quel passaggio da dei personaggi, una metodologia a una nuova metodologia, dei nuovi collaboratori, dei nuovi personaggi. Quindi il tema fondamentalmente è l'eredità. Monticchiello conta circa 200 abitanti e lo spettacolo si svolge in piazza. Tutti i residenti in qualche modo collaborano a questo evento la cui preparazione inizia ogni anno verso febbraio. Ma il teatro in questo piccolo borgo è molto più di un teatro. Il teatro si fa carico di un po' tutto, dalla consegna dei farmaci alla gestione dell'edicola, dei ristoranti, del museo, del centro internet, del centro d'accoglienza. Siamo veramente multiformi, quello che oggi viene chiamato una cooperativa di comunità. Grazie. 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 Grazie.